HBV malgré moi è dibonato in base agli esiti si deciderà ora intanto sono a casa ad attendere un'altra nuova trasferta ospedaliera la valigia è già pronta nel mio armadio è da un mese ormai che è lì imbottita di magliette mutande fazzoletti calzini e quell'epico pigiama rosso amaranto il fatto che non dovrà fare biopsie diminuisce l'angoscia di questa attesa ormai infatti sono del tutto inutili la necrosi ha superato quella determinata soglia per cui all'inefficacia di ogni biopsia si aggiungerebbe pure un certo rischio meglio seppur peggio martedì 15 settembre 1992 qui d'Agest per Rizieri l'interferone è da farsi a Torino dice se a Padova non vuole infatti per lui le probabilità di successo sono del 40% e i rischi per i fegato molto bassi l'opposto per la Florian non solo la cura sarebbe vana ma pure si potrebbe trasformare in acido corrosivo per le poche cellule ancora sane del mio fegato l'uno troppo ottimista o gli altri troppo pessimisti si vedrà a mie spese la Florian comunque per focalizzare meglio il da farsi e prendere la decisione definitiva ha preventivato un ricovero di due tre giorni nell'agastro di Padova per rifare tutti gli esami prelievi ed ecografia ci telefonerà lei quando avrà predisposto tutto e io a chi devo credere a chi dare fiducia chi ha la verità le feste gli studi gli amici viaggi venezia il giornale i libri l'università i giochi il sabato sera la macchina i parenti il cibo i progetti futuri tutto si è equissato mercoledì 16 settembre 1992 queste giornate di settembre sono bellissime il selo è di un azzurro turchino limpidissimo vi è una luce profonda penetrante e una luminosità infinita passo i giorni a rimpiangere il mio spirito di un tempo ora vi è in me un'assenza di ogni desiderio ogni voglia è annebbiata ogni fantasia si è spenta vivo le giornate apaticamente alle onde turbolente di un tempo si è sostituito uno stagno dove ogni idea non riesce ad elevarsi per la pesante melma che la invischia e le impedisce la morte dell'anima questa mattina ho ricevuto due lettere di ilaria le prime forse le ultime è dolcissima per ricordarsi di ricordarmi mi scrive che ha profumato i suoi abiti il cuscino i fazzoletti del mio profumo fahrenheit mi telefona ogni sera da milano dicendomi che è triste malinconica si annoia e perciò vuole tornare ovviamente non sa nulla non le ho detto niente fingo con lei come fingerò questa sera a cena da antonio con nicola nick massimo e marco non devo essere naturale devo invece recitare quella parte che fino a poche settimane fa mi era naturale è diversa la cosa non sapranno mai quanto l'invidio non la loro vita ma la loro salute il loro fegato inizia un'altra partita a scacchi oggi sono per me come il vino per l'ubriaco apotropaiche i pezzi catturano così la mia mente che mi impediscono di pensare ad altro che non sia la mossa migliore da fare ma è quasi come una sfida alla morte g7 h8 una scacchiera pezzi neri da un lato bianchi in quello opposto di 4 f5 abilizzo ha mosso alla fine del suo tempo limite la morte risponde immediatamente senza pensare non ne ha bisogno sogno in queste partite il nero vince sempre fabrizio si ricorda volti di ragazze discorsi in un bar con gli amici il sole di una spiaggia i libri nella sua camera le notti in discoteca il pane caldo appena sfornato di sua madre le note di una canzone le sue ultime venti candele spente con un solo soffio di 3 a 3 una vita la sua troppo breve per accettarne così presto la fine ogni suo progetto futuro morirà con lui al termine di questa partita già persa in partenza lei è lì davanti a lui e non sente ragioni non lo guarda nemmeno a fretta b7 a6 fabrizio la osserva odia la sua freddezza vorrebbe accarezzarla baciarla darle la vita amandola lì subito sopra la scacchiera ma amore morte vanno a braccetto solo in poesia interrompe i suoi desideri i suoi pensieri riflette muove con quell'alfiere in g7 può essere scacco in tre mosse in due mosse g7 h8 scacco matto giovedì 17 settembre 1992 aspetto costantemente notizia da padova le giornate nel frattempo si sedimentano le une sulle altre sempre più sterili sempre più vuote non do esami per questo appello nel piano di studio sostituirò economia internazionale con una materia un po più avvincente forse economia delle aziende agrarie il vero problema è convivere con questa mia cirrosi è allo stadio iniziale è lieve è modica così dicono o così vogliono farmi credere certamente è mortale tutto è iniziato lunedì 10 agosto di sera febbre stanchezza un po di tosse così per accelerare la regione in questa vista di ferragosto ingerisco 3 grammi al giorno di augmenting e niflamma tutto in vano la febbre aumenta arrivando anche a 39 venerdì pomeriggio dopo una inaspettata quanto gradita visita di nicola lorenzo decide di farmi qui a casa un prelievo due ore dopo dal laboratorio clinico arriva il verdetto 1600 bianchi 16 per cento neutrofili 30.000 piastrine valore oltre ogni minimo limite il rischio di infezione di emorragia è troppo alto per rimanere a casa tranquillamente si telefona così all'ospedale di mirano poi a quello di treviso nel frattempo mia madre mi prepara la valigia la sera stessa vengo ricoverato all'ospedale di treviso nel reparto di medicina d'urgenza già dalla sera stessa i valori cominciano a salire un po ma la situazione è comunque preoccupante i medici sono indecisi se darmi qualche sacca di piastrine e qualche antibiotico per precauzione se darmi qualche sacca di piastrine e qualche antibiotico per precauzione alla fine convengono di non fare niente non darmi nulla devo solo restare fermo nella mia stanza senza neppure uscire nel corridoio la febbre dopo due giorni se ne va le chiazze bianche in gola a poco a poco scompaiono i bianchi e le piastrine salgono e dopo dieci giorni di ospedale mi dimettono come raccontare l'angoscia la rabbia e la collera di quei giorni così pesanti e noiosi ero nervosissimo non volevo vedere nessuno non parlavo con nessuno passavo le ore a leggere baudelaire prevalentemente balzac anche il fatto era che mai mi sarei aspettato un tale scacco al mio fisico quasi mi credessi invulnerabile non riuscivo ad accettarmi lì disteso come un rammollito come un vecchio senza forza e sconfitto in fondo mi vergognavo della condizione in cui mio malgrado mi trovavo e per questo la presenza altrui della salute altrui mi disturbava mi infastidiva uscì alla fine ma peggio di prima infatti durante il ricovero i medici mi sottoposero a due esami strumentali una gastroscopia e un'ecografia addominale mai fatti prima di allora l'esito della gastroscopia fu il principio della fine un fulmine devastante i tamburi che annunciano e precedono l'arrivo della morte hanno infatti trovato la presenza di incipienti varici esofagee che furono poi confermate dall'ecografia che mostrava anche uno stato di sofferenza epatica il dottor moretto fu chiaro quando mi chiamò nel suo ambulatorio l'epatita seppur di modica attività in questi 15 anni non ha certo oziato anzi bisognava pianificare una cura la mia giovane età mi obbligava a prendere repentini provvedimenti anzi dovevano già essere stati presi da tempo già io me l'ero proprio scordato in tutti questi anni è vero che a otto anni per un farmaco avaliato il thriller gun preso per una supposta asma che poi non avevo mi sono ritrovato con l'epatita un bel hbv in circolo nel sangue e ironia della sorte mi era anche andata bene il thriller gun emmo derivato non aveva mai dato problemi prima ma una partita infetta del farmaco era andata in commercio facendo diversi morti in tutta italia i più fortunati si ritrovavano soltanto con un'epatite più o meno attiva così dopo il rassicurante colloquio col dottor moretto lasciai l'ospedale di treviso felice per il radioso e lungo futuro che mi attendeva tornato a casa lorenzo si mise in contatto con il professor rizzeri e ci fissò un appuntamento nel suo studio a torino per lunedì 7 settembre il nome di rizzeri ce lo aveva segnalato un cugino di lorenzo gastroenterologo a fenix che lo descriveva come uno tra i migliori epatologi del mondo a torino quel 7 settembre ci eravamo tutti io mia mamma mio papà e lorenzo che per l'occasione aveva preparato un resumetto abellato di ogni esame che avevo fatto fino ad allora rizzeri fu ottimista il fegato regge bene le funzioni epatiche sono buone posso vivere anche lasciando tutto così com'è per ancora più di 50 anni il professore crede però opportuno iniziare l'interferone è una cura relativamente efficace scoperta da lui stesso della durata di circa 6 8 mesi che consiste in punture intramuscolari da farsi a giorni alterni scopo fine è quello di trasformare le in anti e da positivo a negativo mi avverte che non sarà come bere un bicchiere d'acqua ci sono possibili rischi e non sempre si ottiene l'esito desiderato durante i mesi di cura sono molto debole e le prime settimane sarebbe meglio le passassi in ospedale ma non ha dubbi se fosse il mio figlio lo farei disse così usciamo dallo studio tutti contenti e fiduciosi brindiamo in un bar sottostante e ci disobblighiamo con il professor rizzeri che non ha voluto alcuna parcella portandogli sei bottiglie del migliore spumante altro che le funeste diagnosi di treviso certo la mia allegria non era proprio alle stelle otto mesi di interferone mi ridurranno a una larva pensavo e magari per non ottenere nulla non avrei visto nessuno non sarei potuto uscire il sabato sera e con l'università e come motivare agli altri un tale letargo si era stabilito che l'interferone non l'avrai fatto a torino troppo distante ma a padova dal professor naccari amico e collega di rizzeri sarebbe stato lo stesso rizzeri a mettersi in contatto con padova e infatti questa mattina la dottoressa florian ci ha convocati in clinica a padova per programmare e fare il punto sulla mia situazione di questo incontro terrò sempre un ricordo orribile credo che nemmeno i dannati quando si presentano a confessare le loro colpe davanti a minosse e questi decreta la loro punizione torcendo la coda abbiano un animo così terrorizzato angosciato e vinto come l'ho avuto io questa mattina ascoltando quelle parole sono uscito da quella visita più morto che vivo la malattia è avanzata già in cirrosi una cura inutile ora anzi potrebbe peggiorare il quadro uno scompenso epatico è da evitare è troppo tardi per pensare a ristabilizzare in francia hanno maggiori disponibilità di fegati io non farei l'interferone andava fatto prima credo sia meglio non fare nulla è stata lei dunque per la prima volta a parlare di cirrosi già in atto pensa crede che avrò cinque dieci anni di vita ancora tranquilla e dire che oggi era una bella giornata venerdì 18 settembre 1992 l'appuntamento per questi nuovi accertamenti è fissato la florian ha telefonato oggi il rendezvous è per lunedì 21 alle ore 8 a digiuno al decimo piano del monoblocco di padova facciamo un giochino di previsione i dati sono lunedì 10 agosto inizio febbre lunedì 24 agosto gastroscopia ecografia e loro esito lunedì 7 settembre professor rizziari a torino lunedì 14 settembre dottoressa florian a padova lunedì 21 settembre ricovero a padova trovare la costante e ipotizzare su lunedì 28 sicuramente morirò un lunedì mio padre mi telefona tutti i giorni fiducia volontà speranza ottimismo ecco i suoi ingredienti quotidiani crede che la miglior medicina sia quella di tenere alto il morale e voler fermamente combattere sabato 19 settembre 1992 sto pensando come sarà il mio ultimo atto vedo il sipario che calerà come un sudario ilaria è tornata da milano lunedì 21 settembre 1992 letto numero 25 decimo piano forse perché ancora non mi sono abituato ma il numero 37 di treviso era più affabile più coccolone anche qui la stanza è a due letti e come a treviso per mia fortuna sono solo il bagno è tutto per me ci sono in più due poltrone un divano un grande armadio il telefono sul comodino le sedie imbottite ma nonostante questi piccoli accorgimenti la situazione è sempre angosciosa preferirei dormire in un prato sotto le stelle al freddo ma oggi non posso scegliere la porta della stanza a differenza di treviso non da sul corridoio principale e così non posso distrarmi guardando il via vai della gente che passa attorno a me non c'è alcun movimento nessun rumore con piacere ho notato che qui non c'è il crocifisso alla parete a treviso lo avevano staccato dal muro e riposto sopra l'armadio questa mattina mi hanno fatto un prelievo poi mi ha visitato il professor naccari elettrocardiogramma alle 12 e buco sul dito per la glicemia dovrò farne uno ogni otto ore il cuore funziona perfettamente penso cazzo vorrei ben dire che altro potrei fare quanto preferisco i dolori morali a quelli fisici credo che non riuscirò ad accettare a lungo questo alternarsi di letti d'ospedale tutti questi esami da fare e da rifare che mi logorano ancor di più dell'hbv stesso e siamo solo all'inizio questo non è vivere è vegetare stressando le persone che mi circondano costrette a vincolarsi a questa mia condizione io l'orgoglioso che mal accetto di dipendere da altri che mal sopporto di disturbare altri per i miei bisogni eccomi ora qui parassita inutile inoffensivo come un granchia di sabbia che costringo mia mamma e lorenzo a girare come trottole oggi per esempio sarebbero stati a parigi se io non avessi scombinato ogni loro progetto lo faranno anche con amore ma che cambia come ombre i pensieri svolazzano nella mia mente infiniti indefiniti non saprei elencarli o spiegarli certo è che desideri oggi non ne ho più se nascono vengono immediatamente legati e tracinati giù come se esistesse una catena di ferro a trattenerli sto leggendo l'odissea maligno destino al tuo ulisse e io che dovrei dire non potrei mai sapere quanto preferirei come te perdermi tra i mari le isole e le maghe e non essere invece inchiodato qui da questo hbv invidio ogni forma di vita diversa dalla mia anche lo scarafaggio che va da un muro all'altro della stanza credo si fermi mi guardi e si burli della mia condizione come vorrei trasformarmi in qualche altra forma di vita anche la più brutta è orribile ma sana cazzo è che il futuro non la spaventi e il presente l'abbia in gioia mi basterebbe poco per ricominciare e anti e la sera guardo padova dalla finestra del decimo piano il cielo è stellato ho aperto la finestra e sto scrivendo appoggiato alla ringhiera è solo il rumore che si insinua fin qui dalla strada che mi ricorda la mia vita passata in giro a cazzeggiare senza meta con gli amici o quella più felice con una ragazza non comprendono tutta la fortuna che hanno tutti lì che corrono a cercare soldi e successo a rincorrere spiccioli egoismi e vanità a me servirebbe solo un po della loro salute non chiederai nulla di più sartre scriveva ognuno è artefice del proprio destino cioè ognuno ha la vita che si merita cazzate spiegatemi che cosa ho fatto io per meritarmi questo quale torto agli dei che forse me lo sono cercato questo hbv no non è così che stanno le cose nessun destino né provvidenza ho fatto ma bensì caso e caos regnano su tutto questo virus è entrato in me per caso così come poteva entrare in chiunque altro senza obbedire ad alcuna legge o superiore destinazione ha ragione la fallaci s uguale k ln w martedì 22 settembre 1992 simpatico l'infermiere che questa mattina mi ha portato il tè si è affacciato con me alla finestra parlandomi un po di padova ospedale nuovo in costruzione il traffico la carenza di personale l'ottusità di alcuni politici io odio queste ripetute punzecchiature sul dito ogni otto ora sono assillanti e irritanti è sempre la stessa infermiera entra con un ago zack nel polpastrello dell'indice esce quindi una goccia di sangue che subito fa assorbire in una carta speciale imbeve un po di cotone nell'alcol lo appoggia sul dito e se ne esce è esasperante questo stilicidio non tanto per il dolore ovviamente che è lo stesso che provavo quando mi pungevo tra i rovi giocando ma che posso fare questa mattina c'erano mia mamma e lorenzo quando sono entrati mio zio prete e la sua perpetua mia zia teresa ossequioso e rispettoso mio zio non finiva più di raccontarci degli accidenti della sua vita la resistenza del 43 ad asiago il seminario gli anni di borgoforte è rimasto con mia zia quasi due ore mi ha stupito riscattando in 120 minuti 15 anni di ma questa è un'altra storia verso le 12 e 30 tutti se ne sono andati lasciandomi a mangiare da solo mi fa bene così amo mangiare senza persone intorno non suscito disgusto o fastidio né altri mi obbligano a dover sopportare i loro rozzi contegni da solo non ho vincoli e condizionamenti a cui sottostare posso accavallare le gambe e se mi va mangiare con la bocca aperta il cibo qui devo ammettere non è male è ben servito le portate sono abbondanti quasi un terzo in più di quelle di treviso unica pecca è che non c'è scelta così che non esiste alternativa un primo un secondo e un frutto ora sono disteso a letto non so cosa fare non ho voglia di leggere né di pensare né di scrivere vorrei riuscire ad addormentarmi ma non ho sonno queste ore pomeridiane accentuano ancora di più l'apatia e la noia vorrei alzarmi prendere i vestiti dall'armadio e andarmene fuori a bere un caffè al centro dopo aver mandato a farsi fottere tutti hbv compreso perché non lo faccio è tanto semplice devo pensare ad altro ai laria per esempio ai pochi momenti passati insieme a ciò che doveva essere e non sarà più perché da agosto tutto si è spento in me nulla è cambiato e nello stesso istante nulla è più come prima volevo offrirti un autunno da fiaba come solo io so regalare senza chiedere nulla in cambio se non ricordo futuro credimi ti sarei riuscito avremmo viaggiato scoperto luoghi e persone ammirato tramonti e bagnati dalla pioggia avremmo sfidato gli dèi desiderando ciò che gli altri neppure osano pensare le parole non rendono quelli che dovevano essere gli eventi e invece niente abbiamo fatto e dovevamo scalare l'olimpo e io ne sono il solo responsabile forse gli dèi hanno punito la mia tracotanza la mia superbia temendo di perdere la sfida mi hanno inchiodato ancora prima che muovessi il primo passo e sia forse dovrò restare qui fino a venerdì visto che per quel giorno è previsto un esame del sangue per provare la coagulazione oggi ho fatto due lastre al petto e l'esame delle urine alle 21 prenderò sei pastiglie di carbone che insieme al clistere di domani mattina serviranno per il doppler una specie di ecografia il tempo è scandito dai diversi esami che devo sopportare nell'intervallo di tempo tra l'uno e l'altro regna l'angoscia la paura la rabbia la noia è un po di speranza e tu Ilaria che fai mercoledì 23 settembre 1992 ieri sera ho scritto un'altra lettera per il giornale ricordo che tempo fa mi ha colpito una novella di schnitzler morire in cui il protagonista felix si ammala di un male incurabile la sua amata maria gli sta vicino e lo cura con amore sembra che felix accetti serenamente la morte ma alla fine poco prima di morire afferra maria e le chiede pretende che la muoia con lui dopo una lotta lei riesce a liberarsi dalle sue braccia e lui muore la mia lettera un po diversa lettera di felix a maria cara maria sto morendo è solo questione di settimane il male si sta sempre più diffondendo ovunque distruggendo con avidità questo mio corpo un tempo così agile e forte come non bastasse si è scelto due alleati molto efficienti un'alta febbre che mi toglie ogni appetito e forti capogiri che mi chiodano a questo letto che presto diverrà pure la mia bara dove trovare le forze per reagire seppur vi è volontà è vano oggi è ipocrita oltre che falso ogni mio possibile atto di forza per combatterlo questo male mi arrendo lascio che ormai pianti la sua lancia di vittoria sul mio corpo già avariato e perciò sono stati troppi felici momenti che abbiamo passato assieme giorni solari e spensiorati nei quali nulla per noi esisteva all'infuori di noi stessi e del nostro egoistico amore notti avvampate di desideri nelle quali abbracciavi un corpo ancora sano e capriccioso mattine fiduciose assetati di caffè e di vita è il ricordo di questi allegri attimi che ti deve restare di me ed è per questo che non voglio che tu venga qui non voglio che tu mi veda che tu mi parli ora lo so ti chiedo tanto ma prendila come la mia ultima volontà come un mio gesto d'amore nei tuoi confronti questa lettera vuole allora essere il nostro ultimo abbraccio per quanto indiretto accettalo e non pretendere di più quale atroce scherzo del destino è questa mia morte debilitato sfigurato e ucciso da un virus grande un atomo vedersi spegnere a poco a poco come una candela in un anonimo letto di un anonimo ospedale privato anche di un programmato atto finale colmo del mio orgoglio e della mia dignità come ti invidio sirano a me non è rimasta più neanche la forza per sguainarla la spada e non mi resta che sopportare questa non voluta anonima morte forse è proprio vero che ognuno ha ciò che si merita ma cosa ho fatto allora per arrivare a tanto quale turpe disegno la provvidenza ha intessuto o di quale colpa dio il mio ateismo mi impedisce di usare la maiuscola mi ha voluto punire cazzate caso e caos il virus è entrato in me come poteva entrare in un'altra persona e il fatto non fa parte di alcun progetto punizione divina ma il tutto è successo semplicemente per caso ma ciò che mi logora ora non è la morte che lo so mi espugnerà ma questa nauseante sterile attesa questo aspettare la fine io che non ho mai aspettato nessuno ti ricordi quando arrivavo in ritardo ai nostri appuntamenti per il solo fatto di non dover sopportare un tuo ritardo e come ti arrabbiavi poi per la mia sfacciataggine ora sono io ad aspettare la signora qui la infermiere e i medici sono sdolcinatamente gentile e affettuosi con me ben sapendo ciò che mi aspetta non può essere diversamente pura pietà cristiana comincio a odiare questo mio corpo ciò che vedo di me mi ripugna le mie braccia le mie gambe il petto lo detesto perché so che il suo interno è marcio e che la pelle che ancora lo ricopre è solo apparenza e poi non accetto questa mia dipendenza dagli altri io fiero come un lupo non ho mai sopportato di essere in debito con alcuno ho sempre cercato di non essere di peso né ho mai preteso di piegare gli altri ai miei interessi e ora invece devo essere imboccato tutti i giorni e chiamare l'infermiera perché mi spogli e mi rega il pappagallo se non voglio farmela addosso quanta compassione mi faccio ho vergogna di me stesso di come mi sono ridotto che senso ha vivere qualche giorno in più in queste condizioni che senso ha recitare fino in fondo questo dramma non avendo alcuna speranza a cui aggrapparmi questo mio falso stoicismo non è altro che invidia invidia di chi può camminare di chi ora ride e scherza di chi lavora la mia forte ricerca di originalità mi ha sempre portato a deridere la vita stagnante e apatica della maggior parte delle persone che ci circondano ora invidio il loro stupido lavoro la cena alle 8 le pantofole serali la moglie con i bigodini la domenica dai parenti la messa alle 11 a maria una valanga di pensieri mi soffoca rimpianti riemergono gioie ritornano questa malattia ha receso un fiore che stava appena sbocciando a che pro allora farlo nascere muore giovane chi è caro gli dei che consolazione secondo giorno cara maria mi ero promesso di scriverti solo un'unica lettera da dio ora invece voglio intraprendere un diario quotidiano di questi miei cupi giorni e alla fine ti spedirò il tutto oggi è un altro giorno il sole risorto io mi avvicino sempre più all'appuntamento fatale questa mattina mi hanno fatto delle radiografie per valutare lo stato di avanzamento del male la sentenza non è cambiata disteso in questo letto costretto a una crudele immobilità l'unico diletto rimasto mi è il poter pensare seppur non lucidamente come può immaginare e questi assillanti pensieri bacati falsati ammalati essi stessi marciti da questo virus mi corrodono più che il male che dilaga nel mio corpo risultato di ore e ore di spossanti e lucubrazioni non posso accettare che un virus mi uccida giorno dopo giorno il mio orgoglio si ribella le poche cellule ancora sane mi ricordano e mi gridano la mia antica fierezza la nobilità del mio spirito mi si ripresenta come un fantasma ad ammonirmi a ricordarmi la mia originalità tanto decantata un tempo ho sempre voluto decidere io ciò che volevo fare ti ricordi mi vantavo artefice di ogni mio gesto e parola non ho mai sopportato che forze esterne decidessero per me non ho mai cambiato le mie scelte in funzione di come soffiava il vento la mia nave ha navigato sovente sfidando i venti contrari e le alte mareggiate e quando regnava bonaccia ero io stesso a soffiare sulle vele raramente ho avuto il vento in poppa ma tutto questo lo sai quante volte non avevamo i soldi per comprarci un abito nuovo quante volte fingevi di arrabbiarti per qualche lavoro che rifiutavo quanti debiti all'inizio con tuo padre e ora che finalmente ci eravamo un po sistemati che potevo permettermi di regalarti qualcosa questo virus ti giuro non l'ho voluto io terzo giorno ho deciso maria mi uccido testo inutile teatrale asettico dirai ma è ciò che ora voglio devo dimostrare a me stesso di essere veramente superiore a coloro che ho sempre disprezzato certo è anche questo qui nessuno si aspetta un tale atto da me ormai infatti non sono che una larva che vegeta sulle spalle altrui ma non ho dubbi che troverò le forze a dispetto di tutti è solo l'orgoglio che poi non è che egoismo a muovermi un gesto finale disperato ma che farò quarto giorno cara maria anche il progetto di scriverti questo diario è naufragato non sarà più in condizioni fisiche per farlo reggere la penna tra le dita mi diviene sempre più difficile e la concentrazione comincia a lasciarmi sono sporco la febbre mi fa sudare con la barba lunga sono veramente orribile per chi mi vede penso di destare alle infermiere che entrano un profondo senso di rigurgito ma lo sanno nascondere bene in fondo è il loro compito mi ricordo un tempo quando non uscivo di casa se ogni mio singolo particolare non dava quell'armonia voluta e quanto profumo ora imputridisco vivendo unica consolazione aver trovato lo strumento che porrà a mio comando fine alla mia come alla sua vita sì perché anche tu parassita morrai non trovando più vita da mangiare e morirai di atroci dolori come atroce è la morte per fame l'unico rammarico è che mi seguirai io sarò la tua bara dovremo convivere in eterno ma in fondo è giusto che sia così tu mi appartieni e come due amanti moriremo l'uno nell'altro l'uno per l'altro tuo felix questa mattina alle 6 l'infermiera mi ha svegliato per farmi il clistere il primo clistere della mia vita e poi dicono che l'ospedale non è emozionante non è che faccia male ma è fastidioso imbarazzante non riuscirò mai a capire come sade li facesse per diletto ma in compenso così anche l'ecografia è fatta oggi per la prima volta ho visto il mio fegato la milza enorme le cisti di forma rotonda la vena porta e l'arteria con il suo flusso di sangue certo che ci deve essere un bel casino laggiù a vedere le facce dei medici che mi hanno fatto l'eco naturalmente a me per il momento nessuno ha detto niente la pressione questa mattina era alta 170 110 anche ieri a dire il vero sebbene un po meno 100 di minima ma i battiti cardiaci sono regolari deve essere paura agitazione dicono a me però sembra di essere calmo ma in tarda mattinata è venuto a trovarmi mio zio prete con mia zia teresa che mi hanno portato una confezione di bitter e un pacco di biscotti sono rimasti poco perché altrimenti perdevano la coincidenza del pulma giusto una visitina salvo poi telefonarmi verso luna per sentire se avevo mangiato mi vogliono bene ieri sera ho avuto una lunga discussione con mio papà sull'esistenza o meno di un disegno provvidenziale che regoli la nostra vita sull'esistenza o meno di un dio su cosa saremo dopo la morte certo è comodo e amabile pensare che la morte sia solo un evento corporale e che l'anima quindi trasmigri lasciato il corpo verso gioiosi paradisi dove le pene terrestri effimere trovano compenso e appagamento in una gioia infinita per me è impossibile pensare un animal di fuori del corpo cui appartiene anima e corpo sono due elementi indissolubili così che la morte è di conseguenza la fine di tutto così come anche le foglie muoiono se si recitano le radici dell'albero ma poi in fondo l'anima che cos'è se non un insieme di scosse elettriche di neuroni positivi o negativi in sequenza che hanno sede nel nostro cervello è troppo voler far di noi una macchina immortale ciò che eravamo prima di nascere saremo dopo la morte quale pretesa che illusione che ipocrisia credere diversamente volete l'immortalità costruite una cappella sistina o componete nuove sinfonie scolpite un david o scrivete una divina commedia oppure scoprite un nuovo gene magari un antivirale per l'hbv altrimenti mentre i vermi si nutrono della vostra carne voi sopravviverete solo nel ricordo di chi vi è conosciuto